Benvenuti nel centesimo episodio di Roblox! Siete pronti a vederci di nuovo combattere nel Far West? Noi siamo carichissimi! E ragazzi, come va? Io sono Fiorinichi! E io sono Stefano, che si giochiamo a Roblox! E oggi come episodio speciale per il centesimo video di Roblox, torneremo a giocare questo Ticoon che a noi è sempre piaciuto tanto e anche a voi, visto che ce l'avete sempre richiesto! Esatto, è stata una delle mappe storiche che avete apprezzato di più, quindi ci sembra carino riproporlo come centesimo video! Ti ha appena ammazzato uno squalo? No, un'orca! Un'orca! E ancora ferma lì! L'ho appena vista! Ok, è stato molto strano, dato che siamo nel Far West, vedere delle orche volanti, ma non facciamoci domande! Ok, ok! Allora parcheggio un attimino il mio cavallo qua, perché sennò poi la gente me lo ruba tutto il tempo, perché sono dei disgraziati! E metto a fare la produzione, perché in tutto questo ancora non ho avviato la produzione! Esatto, esatto! Vai anche tu un attimo a avviarla, per favore! Dove si avvia? Che mi sto mai cadendo! Lì, 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 lì in fondo, lì in fondo, lì in fondo, lì in fondo! Questo è anche uno dei pochi Ticoon dove si gioca in due! Questo! Ah, non lo vedevo, ok! Ecco, no, ci sono, ci sono! Purtroppo si gioca in due, adesso cambia! No, dai, è una bella cosa! E non mi ricordo più come funzionano i Ticoon, è da troppo tempo che non ne facciamo e non me lo ricordo più! Adesso giochiamo a schiva la dinamite! No, lasciami in pace! Schiva, schiva! Siccome stai scocciando... No! È arrivato il momento di imprigionarti, vieni qua, vieni qua! Ma perché è una padella? Mi hai tirato una torta! Ti sto tirando le torte in faccia! Vieni qua! Lasciami in pace! Alleluia, ti lascio lì dentro! Liberami immediatamente! No, non posso liberarti, sicuramente non so come si fa! Cioè, non mi sparare, brutto disgraziato! Mi devi... Non provare a sparare! Liberare! Allora, io prendo i soldi, faccio il Ticoon Tutto da me e non me ne frega nulla di quello che fai tu! Arrangioti! Ho provato a ricolpirti con la dinamite! Oh no! C'è riuscito... Già! ...a scappare! Guarda, sono diventato talmente arrabbiato che adesso ho gli artigli! Ok! E sono pericolosi! Sì! Niente mi devi nello sguardo! No! Se ti siesti almeno dovuta girare! No, non mi interessano le tue cose! Non sei preoccupata perché guarda! Mi lasci in pace! Meno 100 credito! Io voglio fare la produzione... Cosa hai combinato? Mi ha tolto 100 gold perché ho ammazzato l'alleato! Facciamo i seri un attimino con il Ticoon! Esatto! Perché qua siamo partiti tutti i pazzerelli un po' troppo allegri per l'episodio 200! 100! Ok! E quindi dobbiamo un attimino calmarci! Allora ho preso questo! Ho 26 però posso raccoglierne altri 100! E inizio a mettere i muri così a differenza tua a me non cadono i soldi ovunque e non li freco! Mi sembra un buonissimo piano per partire! Ma tu il bottone dove l'hai preso? Qual è? Eh! Mine! Si chiama Mine! Si chiama Mine! Allora facciamo che faccio Tucket! Tucket! Mi mancano 54! Li prendo! Li prendo! Li prendo! Li prendo! Così! Adesso ho fatto i muri! Ok! Quindi va più veloce e ho il bottone! E adesso resto qua a cliccare un bottone! Per le prossime due ore! Perché nel far west si cliccavano i bottoni! Certo! Tu non lo sapevi mai così! Tu pensi che vi tanno sceriffo, a quello col revolver, ai duelli nel deserto! Invece no! Cliccavano un bottone! Esatto! E partivano proiettili! Ho comprato una cosa strana! Mi stai disturbando mentre clicco il bottone? Sì, sì! Perché te la devo far vedere! Non l'ho ancora provata! Allora questa non so cosa sia! Ok! Te con te cosa fa? Sembra una cosa per acchiappare i pelucci nelle macchinette! Aspetta! Aspetta! Cosa ti ho fatto? Cosa hai appena fatto? Non lo so! Ho cliccato un tasto! Aspetta! Aspetta! Poi un'altra cosa interessante! Non tirarmi torte! Questa! La vedi? La vedi che è un camaleonte? Sì ma mi hai tolto il vestito! Hai scritto LOL nel sedere! Ho notato! Prova a usare dai! Questa è una pozione del camaleonte! Ok! L'ho pagata 4.000! Accidenti! Cosa abbiamo fatto? Riprovala! Riprovala! Sicuramente ti trasforma in qualunque cosa! No? No! Ma è un po' strana come pozione! Ma l'hai comprata in qualche bancarella strana! No! Tecnicamente no! Doveva essere una canale! Ti hanno truffato! Non provare a rispararmi con quella cosa! Aspetta! Aspetta! Te ne faccio una migliore! Sei pronto? Ok! E questa è l'arma più bella! È un episodio serio! Dovrebbe essere guerra nel far west! E tu mi trasformi in un pinguino! Esatto! Ho già mille dollari da utilizzare? Bene così! Bene così! Allora mi compro i nuovi dropper! C'è gente che inizia a sparare con armi strane e dobbiamo tenerci pronti alla guerra! Allora facciamo il conveyor perfetto! Migliorato di brutto! Poi dopodiché compro il secondo! È il primo dropper del secondo! Opla! Ah ok! Mi ero dimenticato che qua il dropper va sopra il primo! E mi ero dimenticato che c'era questo giochino! Sto facendo un disastro! Cioè perché sono strani! Praticamente devi fare tutte cose strane per la produzione! Non riesco a trovare i tasti per finirle! Adesso ho messo la super velocità sotto! L'ho upgradeato al massimo! E quindi quando clicco faccio un fracasso di soldi! Ah ottimo! Sto già facendo una produzione ottima! Sì dai ci dobbiamo un attimino concentrare sulla produzione per poi andare all'attacco! Esatto! Perché questa è la cosa più importante del Tycoon! Per chi non conosce la mappa praticamente questo è un Tycoon dove si gioca in due e ognuno ha la propria parte! Ma la cosa più bella è che al secondo piano sblocchiamo una banca dove ci sono dei soldi! I soldi che vediamo qua in basso a destra praticamente sono dei gold! Ogni volta che riesci a portare la sacca dei soldi di una base nemica nella tua base ti fai 500 gold! Con questi gold ti puoi comprare delle armi fichissime qua nello shop! Vedete? Quelli che io ad esempio il cavallo e tutte quelle cose sono appunto delle cose che avevo comprato quando ci avevo giocato! E qui si possono selezionare delle armi diventando sempre più potenti e quindi riuscendo a rubare sempre più cose! Esatto esatto! Quindi diciamo proprio bisogna andare all'attacco rubare i soldi degli altri degli altri poveri sfortunati! E quindi farti i soldi a tua volta e diventare potentissimo! È davvero originale e figa! E' molto bello! Io non so perché non ho mai fatto altri Tycoon che hanno un obiettivo del genere! E' un peccato perché secondo me merita davvero troppo! Allora vediamo quanti soldi mi sono fatto altri 1100! Bene ma non benissimo decisamente! Iniziamo a mostrare qualcosina! 300 o 364 il destino vuole! Oh io li prendo! Che prendo il primo muro! Spam! Muretti bassi come piacciono a te! Ti mancavano dei Tycoon i muretti bassi? Beh ma dai guarda! E' l'altezza nostra! Quindi almeno se qualcuno spara non ci colpisce! Diciamo è un minimo riparo! Uh ma si è fatta anche la stanzina qua! Bellina! Si si fa tutto in automatico! Super super bellino! Che divide i soldi da tutta la produzione! Molto molto bella! Io qua se voglio posso già comprare i coltelli! Perché costo 500! Eppure io ho tutte le armi e vabbè boh! Siamo già armati capito? Ho già una bella staffa e poi hai visto la pistola che ti fa trasformare in un pinguine! Un'arma letale! Totalmente proprio! Pregherai qualunque persona di questo mondo! Li trasforma in pinguine e scappano! Eh sì 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 assolutamente! Allora qua 1100 vai Upgrader 3 e ritorno a cliccare per un po' di tempo! Alzati i muri! Guarda che belli i miei muri! Uh bello! Bello bello bello! Oh yes baby! Beh poi qua ci sono armi che non faccio nulla! Qua c'è qualcosa da comprare! Uh guarda! Ehi Fede! Sono diventato ricco! Talmente ricco! Talmente tanti soldi! Che posso dormirci dentro! Esatto che ci puoi stare dentro! Tra un po' li avrò anch'io! Fai vedere anzi che poi di tutti e due! Non ce li avrai mai tu! Non c'è bisogno di dividerci! Fammi vedere i soldi! Questa è la mia parte e quella è la tua! Ma stai zitto! Questa è mia! I soldi sono sempre miei! Guarda! Ha deciso lei! Ah che bello! Aspetta! Il mio sogno! Ti ho visto brutto disgraziato! Infame che non sei altro! E perdi punti se uccidi i tuoi compagni di squadra! Quindi sei doppiamente infame! Preferisco ammazzarti! Ho messo già il secondo piano! Yes! Oh che bello! Allora ok! Tacchete! Tacchete! Quindi al secondo piano c'è appunto il quarto conveyor! Ricordavo bene! 1500! Ah no! 2100! Quindi me lo posso anche permettere! Il primo dropper di questa zona 1600 dollari! Non ce li ho! Oh no! Che dici? Che succede? Possono venire a rubare! Oh no! L'hai già comprata? Sì! Non è stata una buona idea! Ho fatto il secondo piano anch'io comunque! Lo so! Sono sul mio cavallo nero bellissimo! Fai paura! Punto a salire nelle scale di nascosto! Sembra un cavaliere della morte! Dovrebbero tutti scappare solo a vederti come cavallo! Ho fatto di fucile a pompa dorato! Oh bellissimo! Lo so! Bellissimo! Ve lo ero! Aia! Sono caduta! Questa non era una bella discesa! Diciamo che potete fare un'entrata un po' più scenica! Visto che tutti ti stanno guardando! Eh lo so! Non è andata proprio bene! Però i guest non ci sono! Quindi stai attento in difesa! Ok! Controlla! Non ho la minima idea di se sono qua o meno! Qua bisogna sfondare la banca in questo modo! Secondo me sono dei verdi! Perché dei verdi vedo tanto tanto movimento! Suppongo! Perché da qui non è che vedo di bene! Guardami! Guardami! Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Corri, 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 corri! Devo fare il salto al volo sul cavallo stile zorro! Stanno cercando di spararmi! Stanno cercando di spararmi! Allora aspetta! Prima penso a sfidarlo! Pem! Pem! Ricarico nemmeno salto! Ziggo zago, ziggo zago! Pem! Pem! Ma quanto hai di vita guest? Tantissima! Immortale? Ok! Infatti adesso che l'ho colpito l'ho disintegrato! Boom! Boom! Oh yes! Gli ho tolto metà vita! Sì 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 sì! Mi stanno rivenendo addosso Perché ovviamente È normale, è normale Sto ancora all'inzona Perché verrà scomparso il cavallo per un attimo? Non lo so! Mori! Ciappano pure! Mori! Mori! Ok, 50 crediti! Ziggo zago, ziggo zago! Mi ha rubato il cavallo! Sembra che hanno accettato di farsi rubare Ok! La sacca! Io sto caricando la staffa Se spunta qualcuno da lì lo disintegro Ok, basta che non colpisci a me No, vai tranquillo Ciao Pere, sono il tuo eroe! Ciao! Tiro una dinamite per festeggiare Fuochi d'artificio! Non ci provare, vabbè, vabbè, ok, ok È andato, è andato È tirato il colpo della staffa È certo, perché una volta che lo carico lo devo tirare Io non mi ricordo quanti gold dava Quindi sono pronta al momento suspense Secondo me è 500 Non è la più pallida idea, vai Sì! 500 crediti! Ottimo, bellissima sta cosa Sono già 1.3 E te hai dato 500? Sì, pure a me li hai dati Quindi ottimo li facciamo insieme, è bellissimo È quello che mi interessava È troppo bella sta mappa Ma perché non la gioca nessuno secondo te? Non lo so, perché di quelle mappe un po' sconosciute Ma che però sono davvero bellissime Secondo me sta proprio nel top assoluto di Roblox Sì, a voglia, è bellissima Invece nessuno la gioca È un peccatissimo 4007, infatti sondaggino Perché nel caso io la voglio anche rifare un'altra volta ancora Sì, ci sta Però con i consolini Cioè facciamo proprio il nostro server E ammazziamo e rubiamo i consolini Non è così bello da dire ma è divertente L'importante è che sia divertente Esatto L'importante è divertirsi, no? Esatto, esatto, esatto Allora, prendiamo i muretti L'upgrade Poi il dropper Mi esce 2006 o 2000 Sto cercando di aumentare molto la produzione E poi torno a combattere Eppure io sto facendo la stessa cosa Perché così, mentre finiamo anche il take-un Eh, ma poi ci dobbiamo anche difendere bene Quindi più armi abbiamo e meglio è Vabbè, io ho tutto quello che mi serve Il problema Uo, 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 uo Scusi Antonio Antonio Se ne vada Allora, non ha capito bene Come funziona Questa è la nostra base Lei non è invitato E adesso la distruggo 50 crediti Arrivano sempre comodo Ci puoi contare Ah, ok Era uno che non sapeva come scegliere il team Perché è bianco, ho capito Mi hanno scoperto Mi hanno scoperto Ok L'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso Mi devo andare dall'altro Ma so anche l'altro E provo stavolta a riprendermi il mio cavallo Che mi hanno rubato Ok, ok, ok Si sono detto, vendicati del mio attacco Eh no, vabbè, giusto, giusto È normale che ci si vendica È lo scopo del gioco Ma non mi rubare il cavallo Rubami i soldi Eh vabbè, oh L'hanno visto Hanno detto, è bellissimo Sono tenuti Lo so che bello Ci prendi i soldi Noi ci teniamo questo Mi sembra equo Allora, vediamo una cosa Ma buongiorno, Blu Che ci fai qua? Vieni che mi dai 50 crediti anche tu Grazie mille Yes C'è anche il guest Ciao guest Ok L'hai sentita? Mamma mia Mamma mia Allora, vediamo Se questa funziona Per spaccare la banca Sembrerebbe di no Perché ogni volta ci mette un sacco a sfondare Eh, forse ci vuole spada Qualcosa del genere Magari coltello Sì brava, forse con la spada era veloce Con la spada riesci a farlo più velocemente Vedi, vedi, vedi Mi devo ricordare di prendere la spada Io non vedo più i guest Quindi stai attenta Occhi aperti Arrivano, arrivano, arrivano i verdi Eh, i verdi? Sì Ma che vogliono i verdi? Non lo so Non possono neanche rubarcela la sacca Perché non hanno ancora la loro banca Non lo so Sono impazziti Sono impazziti Ce la fai da sola? Eh, suppongo di sì Gli ho appena tirato un colpo di staffa Vediamo Forse stanno salendo da dentro però Secondo me arrivano anche i rossi Allora gli aspetto Eccoli, eccoli, eccoli Io sto arrivando, io sto arrivando Io sto arrivando a cavallo Col mio cavallo nero Aiutami Arrivo Boom Boom Non lo voglio anch'io quel fucile comunque Ah, ha saltato all'ultimo Ok, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso Aia, aia Dove è finito? Non lo so Mentre comunque metto i 500 crediti per sicurezza E l'altro è scomparso Poverini, i rossi sono rimorti tutti e due contro di me Io Vabbè Un po' mi sento in colpa ad ammazzarli Però voglio fare tanti gold per comprare E vince il più forte Almeno un'arma Che ti devo dire Per quello infatti io voglio farlo con i consolini Perché i consolini sono decisamente più bravi di questi guestini qua Che non sanno neanche dove stanno messi Di conseguenza sono sicuro che con i consolini Sarebbe una vera battaglia L'organizzeremo, l'organizzeremo Ci sta, ci sta, ci sta Allora, salgo e ti porto Ti devo dare una notizia I rossi sono usciti No Hanno abbandonato la mappa Gli ho uccisi troppo? Sì Scusa Hanno deciso di uscire Ho esagerato Vabbè, l'ultima è stata proprio terribile Sono andato da solo con gli artigli Li ho fatti a fette entrambe Gli ho rubati i soldi Ma gli sono andato Diciamo che Cose che capitano nel far west Che ti devo dire Che ti devo dire Questi sono giunti i crediti che potevamo fare Perché adesso non c'è più nessuno Però i verdi Hanno fatto i muri alti Quindi teoricamente La prossima sciopatta Li dà la cosa E poi li verranno anche loro Perché li massacriamo Guarda, mi è venuta un'idea I soldi spesi meglio dell'anno Mi mimetizzo con la cassaforte Nessuno capirà Qual è la cassaforte E quale sono io I capelli rosa non ce li hai No, è geniale, è geniale Così capito Penseranno di fare qualcosa a me Invece poi io tiro fuori la spada Aspetta che numero è la sette Così e li uccido Capito? È bellissimo È fantastico Sì Così almeno non ho buttato 4.000 Eh sì Mi sembra giusto Sì È un piano geniale È un piano geniale D'accordo Allora qua invece che cosa abbiamo? Allora Ah Posso segnare una taglia Su una persona Ok È entrata una persona Che si chiama Ciccio Gamer Adesso mettiamo la taglia Su Ciccio Gamer Allora Ma ha scritto poi Gamer Un po' strano Sì 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 Non ha scritto proprio Nel modo giusto Ho messo una taglia di 150 Su Ciccio Gamer Ok Vado a caccia di Ciccio Gamer Adesso aspetta Mi sembra giusto Torno subito Sta arrivando un sacco di gente Sì non ho capito perché Anche uno dei rossi Ci sono i nuovi rossi adesso Ah ecco E uno sta salendo Ma è bassissimo Ciccio Gamer Ucciso Quindi È terribile dire così Lo so Ok li sto uccidendo Ma è un cosadino Ciao Steph e Perinichi Sono un fan Salutatemi Scusaci Ti abbiamo settato una taglia È ucciso Non volevamo Però capito Ti chiamisci Ciccio Gamer Quindi noi neanche pensiamo Un consolino Capito È normale Sei italiano È sempre consolino Lo sai che funziona così Aspetta Aspetta Il nostro fan Ti ha rubato i soldi Ti stai scherzando Alla sacca con i nostri soldi Ti stai scherzando Vieni qua Cioè tu ti fidi Capito Perché ti fa tutto Sono un consolino E poi ti pugnala alle spalle Ti tenda E io lo sto pugnalando alle spalle Nel vero senso della parola Al momento Con un coltello Se lo merita Se lo merita Ma scherzi Vieni qua Allora devi pagare Mi spiace Allora li recupero Ah ci ha fatto guadagnare 100 crediti Per il recuperare Quindi alla fine Ho trovato un po' di farci fare i soldi L'aveva fatta apposta Guarda se rientra nel take Un lo uccido No dai poverino No non si perdona I consolini si perdonano Non si perdona Chi ti tradisce I verdi continuano ad arrivare a cavallo Stai attenta Ah va bene Ne ho appena ammazzato uno Cioè ancora Ancora Entrambi arrivano Direi di fermarci così Dato che non c'è nessuno Che ci può diciamo Affrontare Affrontare Siamo troppo potenti Per questa mappa Nessuno riesce a affronteggiarci Esatto Nessuno al momento Riesce a affronteggiarci Parti verdi che ci stanno estenuando Quindi ti giuro Vabbè ma quelli È una cosa a parte Mi ha investito con un cavallo Ce l'hanno proprio con la vita Quelli là E quindi se la prendono con noi Perché sono sempre arrabbiati Ah dici Sì Non c'è altra spiegazione Esatto Che spiegherebbe tante cose Sta cercando di investirmi Con il cavallo adesso Ok vabbè È originale nei modi di uccidere Vedi Se ne trova sempre di modi Ad effetti Ti devo uccidere È una sfida Tu a cavallo Ok Uccides Vedi neanche a cavallo Vinco Neanche a cavallo Bravo Ci fermiamo così Speriamo che questo episodio Numero 100 Speciale Vi sia piaciuto Appunto fateci sapere Nei sondaggi Nei commenti eccetera Se volete rivedere la mappa In versione Consolini War Quindi Esatto Noi due Più sei consolini Che combatteranno Una guerra Insieme a noi Nel caso sarà davvero Una figata pazzesca Abbiamo anche un sacco di soldi 4700 gold Da nel caso utilizzare Per torturare i consolini Sì beh certo È la mappa Non siamo noi È la mappa Esatto Non siamo negativi È la mappa Che ci obbliga a essere E io ne approfitto Lo sappiamo Lo sappiamo Che tu ti diverti Io un po' Io mi diverto solo sui verdi I verdi è proprio gratificante Sì guarda Anche nell'outro Vengono a farti uccidere Quindi ci fermiamo così Speriamo che avete apprezzato il video E ci vediamo domani Bene ragazzi Ci vediamo così Se ci vedete un like E se la prima volta Che avete detto il nostro video Potete considerare La idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao